Le proposizioni interrogative sono proposizioni indipendenti che pongono una domanda. In latino e così pure in italiano possono essere semplici quando pongono una sola domanda o disgiuntive quando propongono due o più alternative. Il modo usato è l'indicativo tranne quando l'interrogativa esprime dubbio, eventualità, possibilità. In questo caso si trova usato il congiuntivo. Copiamoci delle interrogative dirette semplici. Esse possono essere introdotte come abbiamo visto da pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi ma anche da alcune particelle. Vediamo quali. La prima particella è NE che introduce una domanda vera e propria. Rectene interpretor sententiam tuam verres. Interpretor, interpreto, esattamente, recte, il tuo pensiero, verre sententiam tuam verres. Due osservazioni. La prima, la particella NE non si traduce poiché serve semplicemente a segnalare una domanda reale, la cui risposta può essere affermativa o negativa. La seconda, NE è una particella enclitica perché, non possedendo accento proprio, si appoggia alla parola precedente, in questo caso all'avverbio di modo recte. La proposizione interrogativa può porre una domanda reale, come nel caso esaminato precedentemente, ma anche una domanda retorica. L'interrogativa è retorica quando la risposta è già implicita nella domanda. Per capirci rivediamo alcune scene del video sul processo a verre. Verre pretore sotto il governo di verre, domanda Cicerone alla platea che assiste al dibattito. Num in Sicilia senatus consulta et jura communia servata sunt? In Sicilia sono stati forse rispettati num servata sunt? I decreti del senato, senatus consulta et jura communia e i diritti umani? La domanda è retorica, nel senso che la risposta è implicita nella domanda. Ovviamente no, non sono stati rispettati né i decreti del senato né i diritti umani. Siamo quindi di fronte a un'interrogativa retorica che presuppone una risposta negativa. La particella che introduce questo tipo di domanda è num che traduciamo con forse. L'interrogativa retorica può presupporre anche una risposta positiva, come in quest'altra scena del processo a verre. Non ne portus munitissimi maxime et tutissime urbes piratis patefacte sunt? Porti ben fortificati, portus munitissimi, città molto grandi, urbes maxime et tutissime e sicurissime nonne piratis patefacte sunt? Non furono forse aperte ai pirati? La risposta implicita è ovviamente sì. Sotto il governo di Verre i porti e le città siciliane sono state abbandonate alle incursioni dei pirati. Siamo quindi di fronte a un'interrogativa retorica che presuppone una risposta positiva. La particella che introduce questo tipo di domanda è nonne che traduciamo con forse nonne.